E' una delle trasmissioni di maggior successo che coniuga spettacolo e musica, non c'è dubbio che X-Factor sia uno dei famosi talent che negli ultimi anni hanno letteralmente spopolato nel mondo della televisione. Ed ora è aperta la ricerca dei talenti per il 2015 e in vista dell'edizione che andrà in onda su Sky 1 HD nel prossimo autunno, sarà una ricerca che passa anche da Cosenza. Come sempre quindi la redazione del programma è impegnata nell'X-Factor on the road, ovvero la fase di scouting in giro per l'Italia che precede le ultime selezioni, ossia i veri e propri casting. Dunque la ricerca di nuovi cantanti e di nuove storie da raccontare farà tappa a Cosenza domenica 22 marzo in piazza a Giacomo Mancini dalle ore 12 alle ore 20 in coincidenza con lo svolgimento in città della Fiera di San Giuseppe. Un'iniziativa promossa dall'assessore degli eventi al marketing territoriale guidato da Rosaria Sucurro, ovviamente in collaborazione con la produzione di X-Factor che raccomanda agli aspiranti di arrivare sul posto non oltre le ore 17.